Perché la bellezza non è solo altezza e magrezza, ma anche solidarietà e cultura. Quello che tengo a precisare è che non è un concorso, perché la bellezza non si misura in una gara. Grazie per avermi ascoltato. Adesso vi aspetto su www.lapiubelladitalia.it Ah, non aspettatevi una sgasata, perché questa è elettrica.